Buonasera a tutti, ringrazio anch'io gli organizzatori e il dottor Costa per avermi invitato a questo evento. Io non sono un relatore di fama né nazionale né internazionale, quindi mi trovo un pochino, però il dottor Costa si ricorda sempre di me in questi eventi. La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia considerata una malattia rara, ma tutto sommato è tra le meno rare delle malattie rare. In Trentino Alto Adige, al 31 marzo del 2017, abbiamo 46 pazienti viventi affetti da SLA, con un numero di nuove diagnosi nel 2016 di 18 casi. Quindi l'incidenza e la prevalenza sono sovrapponibili a quelle descritte in letteratura. circa 3 casi ogni 100.000 abitanti l'incidenza e 8 casi circa ogni 100.000 abitanti la prevalenza. La distribuzione dei pazienti per distretto e per età, nella distribuzione per distretto non vi sono differenze significative, quindi in tutto il Trentino abbiamo una distribuzione abbastanza omogenea, a seconda dei periodi prevalgono i pazienti in un distretto o nell'altro, così come la distribuzione per età è consona a quella che è la descrizione in letteratura, cioè la malattia ha un picco di incidenze e di diagnosi dopo i 60 anni. Il trattamento dei pazienti con SLA è un trattamento molto complesso e è un trattamento che richiede un'attenta integrazione tra varie figure professionali perché oltre che essere un momento drammatico per il paziente e per la famiglia, il momento della diagnosi è un momento molto difficile, non solo emotivamente, anche per i professionisti che gestiscono questi pazienti, ma perché la patologia, come avete visto anche dalla relazione precedente, non è una patologia che abbia implicazioni solamente dal punto di vista neurologico, ma ha implicazioni in problemi medici molto diversificati, da una grave disabilità e soprattutto ha un impatto psicologico molto importante. Perciò i trattamenti, i principi ispiratori del trattamento della SLA hanno come fine quello che è il miglioramento della qualità della vita del paziente e questo si ottiene innanzitutto con un approccio interdisciplinare, con un'attenta formazione e informazione dei pazienti e delle famiglie che è fin dall'inizio della patologia, il paziente vuole sapere da subito cosa ha, ma soprattutto come vivrà negli anni successivi o nei mesi successivi. Uno dei principi ispiratori fondamentali è il rispetto del principio di autonomia del paziente. Abbiamo visto dalla relazione precedente le implicazioni e le scelte che vengono evocate nel decorso di questa malattia sono implicazioni molto importanti per la qualità di vita del paziente. Quindi il principio di autonomia va sempre rispettato e va indagato fin dall'inizio. Gli interventi devono essere tempestivi, non si può rischiare di essere tardivi nella gestione delle varie problematiche di questi pazienti. Come bisogna essere in grado di facilitare l'accesso ai servizi e aiutare nell'utilizzo dei servizi disponibili che, se presenti ma non conosciuti o non facilmente accessibili dai pazienti o dalle famiglie, sono inutili. La gestione deve essere, come abbiamo detto, una gestione di tipo multidisciplinare. Il neurologo è solo una pedina e una delle varie figure che devono interfacciarsi nella gestione del paziente. Il neurologo ha l'onere del processo diagnostico, che non è particolarmente complicato dal punto di vista scientifico e medico, ma sicuramente dal punto di vista emotivo è uno sforzo significativo. E poi ha il ruolo di coordinare la rete di figure di riferimento che devono poi interfacciarsi e gestire tutte le varie fasi della patologia. Quindi le figure che devono ruotare attorno al paziente e alla sua famiglia sono numerose, ma va sempre considerata la centralità del paziente e della sua famiglia. Fin dal 2009 la consulta ministeriale sulle malattie neuromuscolari ha sottolineato come nel Paese fosse molto frammentaria gli interventi che erano resi disponibili per i pazienti e parcellizzati e dispersi. Per cui le regioni e le province autonome hanno ricevuto il mandato di predisporre dei progetti finalizzati a realizzare o a potenziare i percorsi assistenziali per prendere in carico in maniera globale i pazienti e la loro famiglia. Il percorso è poi stato svolto a livello provinciale con un impegno delle amministrazioni a formulare questi atti formali e poi una disposizione alla nostra azienda sanitaria di definire, quindi attuare sul piano clinico organizzativo questo specifico percorso terapeutico assistenziale e diagnostico dedicato alle persone con la SLA. L'ITER è stato un ITER abbastanza complicato e lungo più che dal punto di vista clinico soprattutto dal punto di vista burocratico. C'è stato un inizio dei lavori del gruppo di lavoro ancora nel 2009 un mandato del Consiglio provinciale all'azienda sanitaria nel 2012 una delibera nel 2013 e finalmente adesso a settembre 2016 c'è stata la delibera da parte dell'azienda provinciale per cui è terminato il lavoro di progettazione di questo PDTA ma è cominciato il lavoro altrettanto importante di diffusione tra le varie figure professionali di cui questo evento, anche grazie alla sensibilità del dottor Costa è uno dei momenti. Voi vedete, il gruppo di lavoro è stato un gruppo di lavoro ampio che ha coinvolto varie figure professionali proprio per la complessità di cui parlavamo in precedenza. Vengono prese in considerazione tutte le varie fasi della patologia quindi si è cercato di non lasciare grossi spazi al dubbio e alla libera iniziativa fin da una fase precedente alla diagnosi dal sospetto diagnostico del medico di medicina generale di una malattia neurodegenerativa muscolare si è cercato di prevedere quali possano essere le tappe che consentano una diagnosi precoce e quindi un minor disagio per il paziente. Nel momento in cui la diagnosi viene confermata e viene confermata attraverso questo percorso che è stato programmato per consentire appunto la velocità di diagnosi percorso tramite una serie di indagini diagnostiche che sono prescrivibili da parte dello specialista neurologo ed erogabile nei servizi, nei presidi ospedalieri di Trento, Rovereto, Villarosa dove lavorano i medici dello SLA team chiamato così questo consente di giungere alla diagnosi di SLA nei tempi, nel minor tempo possibile è prevista poi tutto l'iter dal punto di vista burocratico cioè l'emissione della certificazione di malattia rara come l'inserimento nel registro delle malattie rare e fin da subito, come vedete, è prevista nel momento della diagnosi un'attivazione di una prima valutazione UVM di unità di valutazione multidisciplinare entro i tre mesi dalla diagnosi questo proprio per iniziare a creare fin da subito la rete di assistenza integrata tra territorio e ospedale per non creare dei buchi di comunicazione tra il territorio e l'ospedale che creerebbero dei disagi nella gestione anche di queste fasi iniziali nei pazienti che comunque sono fondamentali cosa fa l'UVM? nell'UVM, nella prima UVM tutte le figure professionali che sono o saranno coinvolte nella gestione del paziente si incontrano si incontrano per descrivere per decidere per valutare per prendere in carico questo paziente e stabilire un percorso assistenziale individualizzato il paziente con SLA ha necessità, come abbiamo visto anche prima di una periodica valutazione di varie funzioni che possono essere funzioni la funzione respiratoria la funzione nutrizionale della deglutizione la valutazione motoria ma anche la valutazione dei bisogni quindi i bisogni che possono essere dall'aiuto nell'attivazione delle varie procedure di invalidità come nel poter accedere ai vari contributi previsti per questi pazienti e queste valutazioni hanno delle tempistiche ben definite in fase iniziale il paziente viene valutato ogni tre mesi ogni tre mesi da una serie di professionisti come il neurologo per la valutazione motoria il nutrizionista per la valutazione nutrizionale o il pneumologo per la valutazione respiratoria questo è un pochino l'argomento che più interessa questo tipo di evento odierno cioè la valutazione nutrizionale allora la valutazione nutrizionale abbiamo detto prima è fondamentale non si può aspettare che il paziente abbia le difficoltà di deglutizione o abbia dei sintomi manifesti di malnutrizione prima di prendere in carico da questo punto di vista quindi fin dalla diagnosi anche nel paziente che non abbia nessuna sintomatologia riferibile a una problematica di tipo nutrizionale o di deglutizione il paziente viene comunque valutato valutato tramite esami ematici di laboratorio tramite una valutazione della cinetica del peso del BMI una valutazione associata delle funzioni deglutitorie perché spesso il paziente nega problematiche di deglutizione che poi in realtà con gli esami strumentali o clinici si evidenziano questo perché? perché dobbiamo cogliere il prima possibile gli eventuali segni di malnutrizione o di disfagia e quindi mettere in atto le varie procedure di educazione nutrizionale con le modificazioni di consistenza della dieta e cominciare a parlare fin da subito di quelle che sono le possibili successive necessità decisionali quindi la nutrizione parenterale la nutrizione interale tramite la PEG il rifiuto di questa e allora le varie possibili alternative importante la valutazione respiratoria anche ai fini di quella che è un'attuazione poi di una possibile procedura di posizionamento di una gastrostomia percutanea perché? perché voi forse sapete meglio di me ma insomma una problematica di tipo respiratorio può condizionare la possibilità di posizionare o meno una gastrostomia percutanea quindi in alcuni casi pur in assenza di sintomi specifici di malnutrizione o di o di disfagia si può proporre al paziente anche in una fase molto iniziale la la prospettiva di un posizionamento di una PEG proprio perché una problematica respiratoria importante può condizionare delle gravi complicanze nel posizionamento della PEG o addirittura impedire poi il posizionamento della PEG come diceva la dottoressa Cattaneo voi vedete che io ho segnalato sempre l'introito orale come tollerato questo è fondamentale per il paziente perché la funzione dell'alimentarsi è una funzione importante nella qualità di vita del paziente quindi noi solitamente come diceva prima cerchiamo di proporre il posizionamento della PEG in una fase molto precoce in una fase in cui il paziente può ancora alimentare per via orale qualora la PEG venisse rifiutata o fosse impossibile il posizionamento o ad elevato rischio vista una compromissione importante della funzionalità respiratoria si valutano tutte le possibili alternative una nutrizione parenterale una nutrizione interale tramite sondino e un trattamento palliativo anche la valutazione quindi della funzionalità respiratoria viene eseguita ogni tre mesi trimestralmente fin dall'inizio fin dall'inizio si valuta tramite le prove di funzionalità respiratoria tramite una saturimetria notturna tramite una valutazione della capacità della tosse dell'efficacia della tosse perché una difficoltà nell'efficacia della tosse può condizionare problematiche di abingestis ad esempio in pazienti che abbiano un'iniziale problematica di disfagia quindi anche la funzionalità respiratoria deve essere valutata trimestralmente e come nel caso della valutazione nutrizionale e della proposta di posizionamento della PEG precocemente illustriamo va illustrato al paziente quali sono le possibili scelte o le possibili opzioni per ovviare o per cercare di aiutarlo qualora ci fossero delle problematiche respiratorie senza condizionare in un verso o nell'altro ma offrendo tutto il ventaglio di possibilità di scelte fondamentale è la valutazione psicologica perché il paziente ha bisogno di un supporto di un supporto psicologico il paziente la famiglia i caregivers non devono essere dimenticati in questa rete sono importanti quanto il paziente perché sono quelli che sostengono gran parte del peso dell'assistenza poi del paziente quando la disabilità è più importante oppure la valutazione psicologica può consentire di evidenziare dei sintomi depressivi importanti e quindi portare poi a una valutazione psichiatrica per un trattamento medico di sintomi ansioso-depressivi molto importanti come va fatta fin dall'inizio una valutazione dal punto di vista cognitivo una volta si diceva che la SLA che il paziente con SLA non aveva problematiche di tipo cognitivo ma questo non è vero un'alta percentuale di pazienti una buona percentuale di pazienti affetti da SLA ha delle problematiche cognitive quindi se noi non facciamo una valutazione iniziale molto attenta e non cogliamo da subito i primi sintomi di queste problematiche poi andare a proporre in una fase più avanzata le disposizioni di trattamento diventa impossibile perché il paziente non è più in grado dal punto di vista cognitivo di darci queste disposizioni e quindi ci troviamo in momenti in cui non sappiamo più che cosa fare qualora lui non avesse dato delle disposizioni ai familiari prima di sviluppare questi sintomi quindi anche la valutazione neurocognitiva va fatta precocemente e poi ripetuta nel tempo quando inizia la disabilità il quadro clinico del paziente condiziona la sua possibilità di accesso ai servizi sanitari deve intervenire e deve diventare più attiva quella che è la presa in carico territoriale domiciliare per questo è importante che venga fatta una valutazione precoce e una discussione precoce integrata proprio perché il medico di famiglia o il medico palliativista che poi trova questo paziente deve sapere qual è stato tutto il percorso fatto fino a quel momento in questo caso si redige una seconda UVM e in questo caso ci si rincontra tutte le varie figure professionali si rincontrano proprio per attuare questa presa in carico più strettamente territoriale come valutiamo l'evoluzione della malattia dal punto di vista strettamente clinico viene fatta viene utilizzata molto utilizzata questa scala che è la LSFRS che è una scala che valuta la disabilità del paziente quindi molto facile da utilizzare in cui si identificano e si prendono in carico una serie di items che riguardano quattro principali funzioni la funzione motoria nutrizionale di comunicazione e respiratoria questo ci permette di fare una stadiazione di stadiare la malattia e quindi identificare nei vari pazienti se siamo in una stadio lieve medio grave o completo questo perché è importante primo dal punto di vista prognostico perché la velocità di progressione della disabilità ci può consentire di rispondere ad alcune domande di questi pazienti e dei loro familiari che ci chiedono in quanto tempo sarò allettato in quanto tempo non riuscirò più a camminare in quanto tempo non riuscirò più a respirare o a mangiare e poi per consentire l'accesso e l'utilizzo delle prestazioni sanitarie aggiuntive che sono previste nella nostra provincia sono previste due prestazioni sanitarie aggiuntive una è la prestazione 25 che è un concorso della pubblica amministrazione alle spese per l'effettuazione di prestazioni a carattere fisioterapico domiciliare per i pazienti che abbiano un quadro clinico grave cioè in cui ci sia un livello grave di disabilità dal punto di vista motorio o respiratorio come la prestazione 27 la prestazione 27 invece riguarda i pazienti con un quadro clinico grave che nella scelta di rimanere al domicilio vengono aiutati dalla provincia con un contributo per la gestione di questi pazienti tutto questo PDTA che stiamo cominciando ad implementare ad utilizzare che sta dando i suoi frutti cioè da quando abbiamo cominciato ad utilizzare questo PDTA il numero di pazienti che terminano la loro vita in RSA o anche agli hospice è significativamente diminuito la maggior parte dei pazienti rimane a domicilio è gestito fino alla fine della malattia a domicilio quindi questo PDTA è stato fortemente voluto da questo nocciolo duro di colleghi che hanno fatto molti sforzi e che sono andati anche contro i mulini a venti in alcuni momenti per metterlo in atto e per cominciare ad utilizzarlo e un ringraziamento particolare anche ad Aisla che ci ha aiutato molto portandoci quelle che sono le esigenze dei pazienti e dei familiari e qualche volta anche tirandoci le orecchie vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti